Eccoci qua, allora lezione 16-17, ossia la 8-9, comunque Shuttle e Buran, questo fa parte appunto della parte un po' storica dell'astronautica, molto breve, perché ovviamente la quantità di roba è sterminata. Allora, lo Shuttle, come sai, già l'ho detto, è abbastanza una fregatura, perché partiva da idee sbagliate, che ripeterò più volte, cioè l'idea di avere una capsula riutilizzabile per abbassare i costi. Questo funziona solo se tu fai tanti lanci, non hanno fatto tanti lanci e quindi i costi non li hanno abbassati, perché l'overhead, quello è fisso. Comunque, dopo il Saturno 5, essenzialmente la missione di andare sulla Luna era stata più o meno compiuta, il Saturno 5 era troppo potente per quello che serviva, si voleva costruire una stazione spaziale internazionale e soprattutto si dovevano dare dei soldi alle ditte per sviluppare nuovi sistemi, cioè il problema essenziale lì è economico, tu devi dare i soldi all'aerospazio, quelli devono sviluppare nuovi sistemi e quindi li devi distribuire un po' a pioggia tra vari contractor e così via. Quindi prese piede, sempre di più l'idea di un sistema riutilizzabile di lanciatori e vabbè, tutta una serie di ditti, c'era il vecchio dinosaur, dinosaur del SOAR scritto come solcare il cielo e poi si è evoluto in tutti questi vari sistemi, poi alla fine questo qua è quello che poi in qualche maniera era più simile a quello che poi prese piede. Il punto essenziale è sempre il solito, cioè lo shuttle portava 27 tonnellate e mezzo in orbita bassa, 16 perché devi cambiare il piano orbitale se devi costruire la stazione spaziale internazionale e mentre il Saturno 5 ne portava 140, quindi non c'è neanche di che parlarne. In realtà non è che questi erano tutti pazzi, l'idea era che al tempo si doveva costruire la stazione spaziale e quindi un shuttle, cioè una navetta che facesse su e giù più o meno spesso effettivamente poteva avere un senso. Il risultato però fu che siccome fu in ritardo e fu con costi più alti di quelli previsti, la stazione spaziale non la fecero negli anni 70, fecero cadere lo Skylab che nel frattempo era stato mandato e questo lo facciamo quando facciamo le stazioni spaziali e quindi si è rimase un po' tutti appesi con questo shuttle che come dicevano gli americani era uno shuttle to nowhere perché andava in orbita ma non c'era nessun posto dove andare. Comunque di per sé una volta deciso che doveva essere fatta questa cosa, vabbè questa è una navetta, la cosa essenziale che vale la pena di ribadire è che è un aliante, non è un aereo, nel senso che a differenza del Buran che vedremo tra poco, non ha motori propri, quindi quando poi rientra nell'atmosfera plana e c'è un tentativo solo per atterrare, non puoi riprendere quota, mentre Buran che comunque non so se poteva fare due tentativi di atterraggio ma sicuramente aveva i motori, aveva più portanza, infatti poteva essere pilotato in automatico, infatti l'unico volo che fece fu in automatico. Comunque sia, questo è l'Orpiter, tre sezioni essenzialmente, la sezione pressurizzata dove ci sono gli astronauti che questa qui, quella che abbia di comando e poi i passeggeri, gli ingegneri del piano di sotto, la Cargo Bay che poteva avere anche lo Space Lab, cioè un modulo di laboratorio orbitale, infatti per molti anni paradossalmente si facevano molto più scienza sulla Space Lab dello shuttle quando non andava alla stazione spaziale che è la stazione spaziale che era ancora in costruzione e che ha sempre avuto e ancora adesso subisce un po' la critica che sì, tutto bello però costa tanto ma di scienza non è che se ne fa tantissimo. Ma in realtà sì, in parte è vero ma insomma fondamentalmente tutte queste critiche sono semplicemente perché io faccio quell'altra cosa e quindi voglio che i soldi vadano ad altra cosa, quindi sì, tutto vero però sempre vanno prese con grano salis. E poi i motori, i motori che però prendono il carburante dall'external tank che sta sotto. E poi le famiglie gerate ali che vedremo quando faremo i disastri. Quindi vabbè, vari anni di sviluppo, quindi si è cominciò a svilupparlo già dai fine anni 60 all'inizio anni 70, si volle provare che i solid rocket booster, quelli appunto a combustibile solido, potevano funzionare, quindi li avevano attaccati ai lati di un Titan, non ci leggo, un Titan 3, non è scoppiato niente, quindi essenzialmente la configurazione era di avere quell'orbiter con combustibile liquido con l'external tank e poi i solid rocket booster per andare in orbita. Questa è l'Enterprise, qui la cosa la saprai, che fu fatta una campagna di lettere per chiamarlo il primo prototipo Enterprise in onore di Star Trek, quindi la NASA fu in ondata di lette, lo chiamarono Enterprise, poi ci fu anche tutto l'equipaggio dell'Enterprise, quella tra virgolette vera, però questo fece molto per in qualche maniera rendere pubblico consapevole del programma spaziale e in qualche maniera supportare le spese che erano elevate rispetto a quelle militari, poi figure di anni 80, erano niente, però comunque andavano giustificate. Veniva trasportato da un 747 della NASA e questi qui sono i voli aerodinamici, perché comunque si doveva testare se questo affare cascasse o volasse o no, come si poteva atterrare e così via, quindi furono fatti vari voli con questo oggetto qui che appunto era a tutti gli effetti un'aliante. Tra l'altro volò pure sopra Roma, io da qualche parte devo averci le foto di quando volò sopra Roma e atterrò a Ciampino negli anni, prima, fine anni 70 credo, un numero di anni spropositato fa. Comunque il problema è che poi effettivamente siccome sembrava un'astronave, sembrava l'aereo eccetera eccetera, in realtà solo agli addetti ai lavori era noto che era una cosa, insomma non è che fosse proprio il massimo, perché appunto la capacità di lancio era molto limitata, se tu volevi lanciare carichi pesanti dovevi andare con un booster ausiliario e quindi poi ti serviva ancora più, cioè avevi ancora meno massa per il tuo payload. Questa è l'external tank, non so se l'avevamo visto in dettaglio, vabbè ma essenzialmente c'è poco da dire, combustibile, appunto ossigeno e idrogeno, una cosa simpatica è che, aspetta che appunto non ci vedo, però essenzialmente c'è questo, vedi queste due grondaglie che corrono ai lati, questa è la feed line che porta proprio il carburante, questa qui piccolina è la repressurization line, perché essenzialmente serve per ripressurizzare la parte in alto dove va via via il carburante va diminuendo, in maniera da tenere tutto a pressione. Poi vabbè ci sono una serie di anti-vortex baffles, cioè una serie di oggetti all'interno per evitare che si formino vortici con moti convettivi che potrebbero ridurre il flusso, che deve essere non vorticoso ovviamente, deve essere continuo, non ti devi inventare niente. E poi quello che si vede sempre poco è qua, che è il carburante, cioè il connettore per la benzina, cioè essenzialmente ossigeno e idrogeno, poi vanno poi nei motori e vengono fatti bruciare nei motori, quindi c'è due connessioni poi con lo shuttle vero e proprio. Poi l'altra cosa che è qui sopra è la vent valve, cioè la valvola per l'uscita dell'ossigeno che un po' bolle, un po' se ne perde per evitare che la pressionamenti troppo. Infatti se tu vedevi queste foto prima del lancio si vedeva sempre un pennacchio di carburante, insomma di ossigeno. Comunque l'oggetto è un signor oggetto, questo è l'external tank con una persona dentro, insomma tanto di cappello, dal punto di vista ingegneristico era un'ottima cosa. Poi mentre i solid rocket booster venivano recuperati, questo qui veniva, siccome bruciava più a lungo, siccome i motori bruciavano più a lungo, lui aggiungeva una velocità orbitale molto più alta e quindi poi alla fine non poteva essere recuperato, comunque era molto più leggero e quindi insomma veniva fatto cadere e bruciare nell'atmosfera. Non so se ce lo dovrei aver messo, questo è il motore principale ma l'abbiamo già visto tante volte, quindi gli soliti 2 MN ciascuno, quindi 3 motori, più o meno 6-7 MN. Ah eccolo qua, questa è la linea di, eccolo qua, qui è dove prendi l'ossigeno e l'idrogeno e poi li metti nelle tre camere di combustione e poi c'è i motori principali. Per il resto direi che abbiamo già detto tutto. 5, furono fatti 5 perché all'inizio appunto erano 4, poi dopo la perdita del Challenger fecero l'Endeavor, ma tutto sommato quasi tutti uguali, in realtà c'erano alcune differenze soprattutto il Columbia aveva, essendo stato il primo e il prototipo, aveva tutta una serie di sensori in più per misurazioni, dati e così via che poi furono purtroppo utili quando poi ci fu un incidente del Columbia e si trattò di capire cosa era successo e quindi i dati ausiliari che venivano raccolti da questi strumenti che erano in più furono poi utili per capire poi che cosa era successo. Comunque sia, 2 su 5 furono andati persi, 7 più 7, 14 morti, più anche credo un altro quando si trattava dell'operazione di recupero dei retriti sull'elicoltro, ci fu un'altra persona, ma comunque i morti e i disastri facciamo parte. Ne rimangono 3 che poi furono ritirati e sono nel museo. Il profilo di volo, ti ricordo, è un po' simile a quello che avevamo visto per il Saturno 5 di nuovo c'è questo famoso Max Q che è la massima pressione dinamica poi questi si ostinano a usare un'area di misura medievali del pounds per square foot che Dio sa quant'è, ma comunque sia la sostanza è sempre la stessa. Via via che passa il tempo ovviamente la tua velocità aumenta, che è questo qui rosso fino a raggiungere anche questo in piedi al secondo. Quindi devi dire 3 per 3, quindi questi sono mille metri, un chilometro al secondo perché appunto sono solo due minuti, questo è solo l'inizio. La densità, questa è l'altezza, in piedi non sia mai pure questa, è vero che i piedi sono l'unica cosa tollerabile perché gli aeroplani usano i piedi. Dunque, quindi se questo è 150, questo è 50 chilometri e poi hai la densità dell'aria che è questa qui, che va via via diminumendo e questo mi rifiuto di capire che cosa è. S non so che cosa è, per microgrammo o per piede cubo? Stones, non lo so, sarà Stones, non so se sono divertite a usare le cose più antiche che risalgono a Murabitel, comunque sia, scende. E quindi, di nuovo, alla fine il punto in cui essenzialmente si incontrano così e in qualche maniera hai il max Q, cioè la massima sollecitazione dinamica. Infatti, se tu vedi video, anche di questo ci stanno cose, quantità sterminate di roba, però fondamentalmente tu vedi il video, lui parte e dopo pochi, neanche due o tre secondi comincia subito a ruotare perché deve porre la parte, cioè lo shuttle, la navetta vera e propria sotto in maniera da ridurre le sollecitazioni dinamiche alla navetta vera e propria. Poi ovviamente inclina, ma il discorso di perché inclina l'avevamo già fatto. Quindi questo è il profilo di volo, essenzialmente, vabbè, l'avevamo vista, ma insomma, lanci, ti liberi dei solid rocket boosters che appunto hanno i paracadute e vengono recuperati, ti liberi dell'external tank e quindi c'hai il main engine cutoff, te ne vai in orbita, di solito stai in orbita, stai a pancia su, per due motivi, uno perché così dalle finestre vedi il panorama, cioè vedi la terra che quindi è molto meglio, e secondo perché comunque la parte in basso è schermata meglio dai detriti e quindi se ti dovesse arrivare i detriti è più probabile che arrivino, tra virgolette, dall'alto che dal basso perché dall'orbita più bassa è più difficile e quindi stai così. Tra l'altro così la pancia che è appunto nera e quindi irradia meglio il calore, irradia meglio il calore verso lo spazio dove c'è 3 kelvin rispetto alla terra dove ce n'hai 30, cioè anzi no, ce n'hai 300 perché è 30 gradi centigradi e quindi butti meglio il calore. Quando fecero la missione di AMS-01 dovettero stare a pancia all'aria perché appunto il liberatore doveva prendere raggi cospici dall'alto e quindi questo, so come mi hanno raccontato, il comandante della missione, l'astronauta, dice sì se fa tutto però non è che sono contentissimo perché è chiaro che siamo più esposti. Dopodiché il rientro nell'atmosfera è sempre fatto appunto in maniera, sfruttando l'attrito, quindi c'hai dei micro retrorazzi perché ce l'hai ai lati. Ciao David, sì vabbè quando vuoi. Cioè i retrorazzi, gli accendi retrorazzi, cominci ad avere attrito nell'atmosfera e poi atterri e appunto come un aliante col paragadutino. Allora uno dei problemi dello shuttle di questi oggetti qui è che non hai, cioè mentre le Soyuz e il Saturno in tutta la missione hai un scenario in cui c'è un abort e quindi puoi salvare il tuo equipaggio, nello shuttle ci sono alcuni momenti critici in cui non ti puoi salvare. In generale sono pochi però ci sono e quindi insomma è sempre una cosa che non è bella a sapersi, infatti poi col challenger non si salvarono mentre poi si sarebbero potuti salvare con una serie di procedure, sì magari tirate per i capelli ma che si potevano fare, lo stesso per il Columbia. Comunque uno degli scenari dopo che tu sei partita è l'aborto launch site, cioè se c'è un qualche problema che non riesci ad avere, ecco vedi questa è la traiettoria nominale, non riesci ad andare in orbita per un qualunque motivo, puoi avere appunto un profilo di missione per cui tu essenzialmente ritorni indietro ancora con i solid rocket booster e con l'external tank, quindi sfrutti di più l'energia, vai più in alto, ritorni indietro, butti tutto e poi riatterri al launch site, poi c'erano altri profili di missione di cui uno era l'aborto to ground ovviamente perché dovevo andare in Spagna, cioè c'era una pista dell'aeroporto spagnola che era preposta a ricevere lo shuttle, perché ovviamente tu lanci da che canale era lanci verso l'est, verso l'Europa, se c'è un volo suborbitale in qualche maniera fai un perso e poi ritorni giù. Altri scenari potevano pensare di fare un'orbita o comunque un'orbita più bassa e poi riatterrare a Edwards o altre piste di atterraggio. Però insomma da questo punto di vista si era cercato di coprire il più possibile tutti gli aspetti della missione per mettere in sicurezza il più possibile gli astronauti. Il rientro appunto, va beh ecco il solito col carrello, col paracaduto e così via, è un rientro difficile nel senso che poi non era possibile farlo in automatico, ci doveva essere il comandante che faceva questa cosa, si addestrava molte volte, c'erano vari simulatori e anche aerei che essenzialmente simulassero la cosa, perché appunto anche qua si fa, figura se sei pilota lo fai, non dico occhi chiusi ma quasi, però hai solo una possibilità per farlo, però da questo punto di vista non ci sono stati problemi. E questo è il profilo di rientro, allora vedi che questa è in unità di misura umane peraltro, mezz'ora prima, un po' più di mezz'ora prima, in realtà già un'orbita prima avevi fatto il primo rientri burn, cioè accendi i motori per cominciare il rientro. Infatti vedi qua il grafico parte già da 130 km, questo ti fa vedere appunto quando entri essenzialmente nell'atmosfera che comincia ad essere un numero, una densità sensata, comincia a decadere la tua altezza, la velocità rimane grossomodo immutata perché ancora non stai perdendo troppa energia cinetica, però l'angolo di attacco è l'angolo con cui devi rientrare, è un angolo ben preciso perché se sei troppo di piatto essenzialmente rimbalzi, proprio come i sassi sull'acqua, sembra difficile accredersi ma lo vedi come un oggetto semi elastico e te ne arrivi su. Se vai troppo giù freni troppo poco e quindi non solo poi la parte alta non è fatta con le piastrelle termiche per dissipare il calore ma comunque va giù troppo veloce. Quindi c'è un angolo ben preciso, non mi ricordo quanti gradi con cui devi andare. Anche qui vedi quando entri a 70 chilometri già l'atmosfera è talmente tanta e la velocità è talmente alta che ionizzi l'aria, quindi la tua aria ionizzata e quindi perdi comunicazioni con terra. Spesso, non so se negli ultimi voli con i TDRS riuscivi però a comunicare verso lo spazio con i satelliti in orbita più alta e poi a comunicare terra. Però di per sé il rientro nell'atmosfera fa questo blackout che c'erano anche l'Apollo, le Sayu, tutti perché l'energia cinetica è talmente alta che... ma poi, di nuovo, a posteriori è ovvio, una volta che tu ionizzi, cioè c'è una velocità talmente elevata che l'energia sugli atomi è talmente elevata che ionizzi gli atomi e c'è un gas carico elettromagneticamente e quindi non ti parli. Rallenti, ecco qui partivi dai 7 chilometri al secondo orbitali tipici, scendi a una velocità più o meno umana di 3-4 chilometri al secondo e comunque è una signora velocità e 10 minuti prima poi continua a diminuire però essenzialmente è un po' come i meteoriti, quando c'è una velocità molto elevata fai ablazione sia sul meteorite che ionizzi l'aria e c'hai la scia luminosa, dopodiché il meteorite a un certo punto inizia quello che è il volo oscuro, insomma non emette più perché la velocità è talmente diminuita che cade ma non lo vedi e quindi anche qua vabbè tu scendi e poi scendi proprio con un aereo e qui appunto l'ultima parte proprio plani come un aliante. Qui pure le cose che ha fatto lo shutter sono poi sterminate perché poi alla fine una volta che hai scelto quello ti tieni quello, fatto 135 voli se non sbaglio, comunque più di 100, tra le cose migliori appunto il volo discovery del 90 che lanciò lo Hubble Space Telescope, questo era buono perché appunto essenzialmente essendo in orbita bassa, cioè allora dunque l'orbita era più alta, era 550-560 chilometri perché non volevi che cadesse, cioè non lo puoi mettere all'altezza della stazione spaziale che è appunto 350-400 chilometri perché l'attrito con l'atmosfera l'avrebbe fatto già cadere e questo se vuoi è la riprova dell'esponenziale che c'è nella densità dell'atmosfera terrestre perché già da 400 va a 550 chilometri, quello l'hanno messo su nel 90 e là è rimasto. Poi hanno fatto tutta una serie di missioni che stanno nella prossima slide ma essenzialmente l'attrito con l'atmosfera lì è completamente trascurabile, cioè parli proprio di secoli. Dopodiché dovendo metterlo in orbita attorno alla Terra non hai bisogno di booster o di niente in più e quindi puoi sfruttare tutta la cargo bene tutta la massa o tutto il volume e o tutto il volume per permetterci il tuo cargo che in questo caso appunto era il telescopio. Qui ce n'è una forse un po' più bella in cui si vede appunto l'astronauta che va fuori esce da qua esce dal questo airlock qui e col braccio robotico canadese che è questo che sta da questo lato qua. Tra l'altro qua è tutto molto bello il disegno però non si vede per motivi grafici non hanno messo le porte. Adesso me ne sono accorti. Comunque sì forse perché sono più aperte però no qua non ce l'hanno messo proprio. Questo è Hubble. Allora la cosa la sai la storia che si erano sbagliati a fare l'ottica di Hubble era la Perkinelmer che tra l'altro è la stessa ditta che faceva i calcolatori Perkinelmer che erano gli antisignali dei Vax che erano molti utenti, bei calcolatori. Fecero gli specchi da come me la ricordo io essenzialmente non tennero conto del fatto che tu lo specchio fai lo fai a G cioè sotto la forza di gravità ma in assenza di gravità si deforma ma non di centimetri di quei 3 micron che bastavano a devastare tutto e quindi tutte le immagini arrivano giù sfocate arrivano giù sfocate e vabbè poi si capì qual era il problema dopodiché nel frattempo la Perkinelmer era fallita insomma alla fine poi paga il contribuente in questo caso statunitense però c'è da dire che in questi in tre anni nel 93 già ti avevano messo su una missione per andare a correggere l'ottica che comunque è una cosa di tutto rispetto perché con le schedule dello spazio con cose che richiedono decenni e così via è anche vero che la figuraccia era troppo cosmica cioè non è che come lhc che non vedi le particelle lì vedi la foto che è sfocata la capiscono tutti che è una foto sfocata quindi non si scappa comunque misero su e tra l'altro il fatto che fosse progettato Hubble molto bene era che poi c'ha questi oggetti modulari quindi poi loro presero un modulo con l'ottica di correttiva non era neanche ovvio che poi tu potessi correggere l'ottica perché poi una volta che insomma e poi fu messo a posto e poi fu un grande successo dopo di che furono fatte altre quattro missioni per correggere per cambiare i vari sistemi soprattutto i giroscopi perché o meglio le momentum wheel più che il giroscopio il momento wheel è un giroscopio cioè è una ruota che gira e quindi ha due scopi uno che ti stabilizza su tre assi l'oggetto perché sennò devi puntarlo non sai dove andare e secondo che in qualche maniera se tu devi appunto cambiare l'assetto dell'oggetto anche velocemente è quella che poi ti consente di modificarne perché c'è un sacco di momento di inerzia quindi riesce a trasferirlo in maniera semplice per puntare il tuo telescopio e questi però essendo oggetti che si muovono poi alla fine si si rovinano c'è stato pure tutta una serie di scandali sulle momentum wheel di una ditta che le dava con materiale un po' appezzottato cioè un po di risulta comunque non consono alle norme standard e quindi poi si sono perse varie missioni vari satelliti per via del failure del momentum wheel ma qui era semplicemente uso uso tipico anche sulla stazione spaziale devono sostituire periodicamente quindi essenzialmente sono momentum wheel e giroscopio il quarto dei sei giroscopi fa lì e quindi poi gli riservano a meno tre per fare la scienza e quindi anche qua dal 99 02 dunque no scusa dal 13 novembre ci fu un failure però allora avevano già pianificato la missione a dicembre quindi in realtà ci mise poco poi ci fu quella del 2002 a tre anni e i pannelli solari e poi mesero altre camere e poi ci fu una grande campagna perché voleva lasciarlo morire costa troppo c'è c'è alla fine le solite lettere ss di star trek sette anni dopo fecero appunto la quinta e final service in mission con atlantis in generale quando fai queste missioni siccome sta più in alto poi gli astronauti si prendono una dose di radiazione un po più alta però anche lì nulla di catastrofico nel senso che stai lì dieci giorni una settimana neanche quindi alla fine non è non è pericoloso è inferiore a stare sei mesi sulla stazione spaziale internazionale dopodiché veniamo appunto al problema dell'economia del dello shuttle questi sono sempre da wikipedia quindi però insomma l'isclaimer l'ha fatto questi sono i vari lanci vedi l'enterprise fatto cinque voli però neanche suborbitali dall'aereo perché non poteva volare non aveva proprio l'equipaggiamento per volare e il primo volo del columbia fu nell 81 ne fecero due young e krippen se non ricordo male dopodiché si sono cominciati ad alternare e i gap che sono qui punto sono dovuti all'incidente del challenger prima eccolo qua e all'incidente del columbia poi eccolo qua quindi posso stare fermi vari anni e poi hanno ripreso dopodiché hanno ripreso ma come vabbè tutta una serie di raccomandazioni però la versione breve è che essenzialmente fino a qua loro usavano lo shuttle siccome gli era comodo anche per lanciare satelliti anche militari quindi non aveva alcun senso come ho detto tante volte tu il cargo non ti serve mettere a rischio e o utilizzare equipaggiamento man rated per lanciare un cargo e quindi dopo lì che gli dissi no adesso tu non ti inventi niente deve essere solo cose o scientifiche oppure che necessitano della della dell'uomo altrimenti sarete i lanci con i lanciatori soprattutto quelli militari da però c'era tutta una serie di missioni però insomma comunque c'era tutto visto che la stazione spaziale aveva cominciato a costruirla nel 98 quindi qua tutte queste missioni qua si facevano volo fisiologia che radiazione tutto quello che poi però era con questo space lab che era essenzialmente un laboratorio non c'era la stazione spaziale poi piano piano hanno cominciato a mandare i moduli della stazione spaziale quindi c'era tutta una serie di missioni per costruzione della stazione spaziale il columbia non andò sulla stazione spaziale infatti quello fu contribuì alla perdita dell'equipaggio e quindi si alternavano voli alla stazione spaziale per la stazione spaziale cioè che la costruivano e voli stand alone dopo il columbia disse vabbè allora a questo punto bisogna assolutamente completare la stazione spaziale quindi tutti i voli devono essere o di moduli o di equipaggio ma essenzialmente una volta che mandi lo shuttle ci mandi anche un modulo un pezzettino e quindi poi completano la stazione spaziale poi fu ritirato nel 2011 in realtà poi qui la cosa è sempre discutibile perché così come fecero per tra il saturno 5 e lo shuttle fece lo stesso tra lo shuttle e space x nel senso che poi stettero per tutta una serie di anni quasi dieci anni senza lanciatore in grado di mandare la gente nello spazio e dovevano pagare i soldi ai russi per mandare la gente con con le sajuts in attesa che poi sviluppasse il nuovo sistema di lanciatore che sarebbe potuto andare sulla luna però poi nel frattempo sono arrivati privati soprattutto ilon musk infatti poi il volo successivo manned è stato quello del dragon di space x dopo di che appunto si sono alternati i vari vari orbiter più o meno in maniera uguale perché comunque ci voleva tempo per fare il servicing dei motori cambiare i pezzi eccetera eccetera quindi questo è problema e dopo di che il numero il numero ecco il numero essenziale è il numero di lanci per anno allora vedi che quando è stato proprio il massimo poco prima dell'incidente del challenger erano nove lanci per anno una media se vuoi essere generosa e sei se vuoi essere se puoi farla bene secondo me tre cinque e quattro e poi dopo il columbia vedi che la media forse è poco più di tre perché se anche se togli questo diciamo è tre tre qualche cosa quindi il numero di lanci per anno poi fu estremamente più basso vabbè questa è la cronologia ma non è che dice molto ecco quello che ti dice è lo spazio tra i vari i vari voli allora vedi che prima del challenger erano più fit in generale riuscivi anche a riutilizzare la navetta in maniera più con un ricambio più veloce dopo l'incidente del challenger erano più spaziati gli uni dagli altri per arrivare poi quel numero che abbiamo visto prima e poi ancora più spaziati perché poi qui hanno ricostruito dove sta l'endevo perché questa qua ma dopo sono rimasti con tre navette perché non aveva senso tra l'altro tre navette di cui però la cosa che dovevano essere sempre due in grado di lanciare questo poi lo vedremo appunto con gli incidenti cioè dopo il columbia hanno detto sì però allora tu devi essere in grado nel tempo che gli astronomi rimangono in vita nello spazio in caso di un incidente qualunque di mandare un altro shuttle e andare a recuperare cosa che peraltro avrebbero anche potuto fare stile Apollo 13 sul nel caso del columbia se avessero fatto se fossero accorti veramente avessero preso cioè era mi sarebbe stata una missione molto tirata per i capelli ma insomma questi sono i voli per per orbiter vabbè qui c'è poco da dire l'enterprise ne fece cinque appunto perché non sono voli veri vedi qua 19 minuti povracci columbia 28 voli e il massimo c'era il discovery con 39 quello di krister fuglesang e vabbè numero di orbite ma questo secondo me conta poco più che quello che conta sono le missioni vere vere e proprie insomma e appunto vedi che l'endevore poi entrò in servizio nel 92 appunto a seguito dell'incidente del del challenger e appunto perso nel 86 1 e il columbia nel 2003 quell'altro vabbè però queste miri ss in realtà sì questi fu ci furono le missioni mir questa fu molto molto interessante perché furono le prime missioni alla dopo la guerra fredda dopo la perestroca dopo tutto quasi dieci missioni appunto mi chato il tui ss scusate chato tu mir quindi c'era un adattatore fatto apposta per fare questo lavoro qua che testava tutti i sistemi e anche poi l'infrastruttura e anche l'organizzazione tra russi e americani per poi fare una serie di missioni internazionali quindi questo fu la veramente il precursore del poi della stazione spaziale e poi vedi che però alla fine non è che hanno fatto tutti questi voli sono 24 più 37 quindi non è che siano stato un numero sterminato di voli sulla stazione spaziale se consideri che russi mandavano due o tre sajuts all'anno dal 2000 quindi già ne fatti 60 più i cargo più le spesso ma questo sempre per dire che riutilizzabile sì ma poi in realtà non è che ci siamo tanto i costi anche questi se vengono da wikipedia un altro paio di fonti ma insomma i numeri sono quelli la previsione questo è spassoso come tutte le cose perché la previsione dei costi e proprio lo sta nel cielo in terra e come tutti i complementi sballati allora loro hanno previsto che sarebbe costato 7 milioni 7 miliardi e mezzo di dollari che convertiti nel 2011 fa cinta 10 a 50 miliardi di dollari l'idea era che ogni lancio sarebbe costato 9 milioni di dollari per ridicolo aggiustato per per il lancio per i lanci scusa per l'inflazione 2011 di nuovo metti 10 comunque 5 5 insomma 54 milioni di dollari il costo per chilogrammo doveva essere 260 dollari al chilo che un'altra cosa completamente ridicola anche che lo aggiusti per anche a un 1.400 dollari per chilogrammo è un numero ridicolo era più intorno a 10 20 mila dollari tutto questo si basava sull'ipotesi di che tu avevi una una cargo beta 30 tonnellate che questo l'hanno fatto questo bisogna dirglielo e 50 lanci l'anno e questo questo è il problema di 50 lanci l'anno non stavano in cena in terra perché appunto nell'anno migliore col vento a favore ne hanno fatti 9 e e poi se se anche ne avessi fatti 12 all'anno quindi già molto di meno per 15 anni sarebbe costato 54 miliardi di dollari in realtà poi costò quasi 200 miliardi di dollari e tutto questo molto più di tutta il saturno 5 tutta luna che è legata al fatto che questi avevano venduto sta a fare dicendo no siccome riutilizzabile la navetta costerà molto di meno infatti il costo reale per lancio era 4 500 milioni di dollari per per missione e ammontava al 30 per cento del del budget nasa cioè 5 miliardi quindi il budget nasa 10 15 miliardi di dollari anche quella è una goccia perché appunto un sommergibile medio scarso costa due tre miliardi quando sei bruciata non so se hai letto che si è bruciata la porta aerea americana la due anni fa si era scoppiato l'incendio non l'hanno spenta e a san francisco e quindi poi alla fine hanno hanno spento l'incendio ma i danni erano talmente ingenti che hanno dovuto buttare una porta aerea del costo di 2 3 miliardi di dollari così quindi però i numeri sono questi quindi il 30 per cento era legato allo shuttle e il problema è l'overhead cioè sono i costi elevati dei non del lancio in quanto tale cioè è l'infrastruttura soprattutto perché poi gli americani hanno dei costi di infrastruttura di ditte immensi cioè è chiaro che se tu c'è una serie di ingegneri che sono preposti che ne so anche al ai solid rocket booster o al computer eccetera eccetera non è che gli dici senti io ti licenzio ci rivediamo quando rivoliamo di nuovo quindi devi mantenere in piedi tutta l'infrastruttura anche solo tenere l'equipaggiamento e quindi ha dei costi appunto quello che dice sempre wikipedia ma i numeri sono corretti dal 2004 al 2006 ha speso 13 miliardi solo per tenerlo nonostante fosse fermo per il columbia perché appunto non e alla fine fecero tre lanci tra il quando il return to flight perché l'overhead è quello quello non ne puoi scappare quindi tutta tutto il business plan per dirlo sempre l'americana su cui si basava lo shuttle era completamente errato di nuovo era anche completamente errato perché effettivamente poi il budget fu drasticamente ridotta la nasa dopo la missione lunare c'è una volta che la corsa allo spazio e la competizione sovietico americana e si era conclusa non c'era più un motivo di mantenere tutti quei soldi meglio spendere i missi nucleari e quindi poi riducendo il budget hanno dovuto cancellare la stazione spaziale credo che fu reagan a cancellarla e infatti la stazione spaziale rinacque dopo solo come attività internazionale con il contributo gli americani sono quelli che spendono di il contributo europeo giapponese e russo altrimenti non si sarebbe mai fatta appunto nel 2009 spesa 3 miliardi per cinque lanci di cui 500 per l'integrazione del programma un miliardo flight grand operations un miliardo per flight hardware e quindi i motori perché poi comunque anche questi motori si trovano dei crack anche prima l'incidente del columbia insomma era un oggetto complesso che mantenerlo costava e quindi alla fine della fiera 135 missioni qui due righe sotto quota 192 miliardi 196 ma insomma forse perché converte al 2010 veniva tutto incluso lo sviluppo un miliardo e mezzo di dollari al lancio però questo non è correttissimo perché appunto c'è tutta la parte di sviluppo poi c'è il costo per lancio il costo per chilogrammo era appunto 270 mila dollari se li converti nel 2017 ossia due o tre volte rispettivamente il cigno e il dragon quindi costi molto più alti per un oggetto che appunto poi era un passo indietro rispetto al saturno 5 per una serie di missioni poi sia umane o no però che si ferma a 500 chilometri poi hanno lanciato anche ulisses e altre alte sonde però essenzialmente è un oggetto fatto per andare a 500 chilometri non a 400 384 mila chilometri quindi proprio due scale differenti però tant'è questo avevano venduto questo tra l'altro l'altra cosa che di che dicono sempre che mentre il saturno 5 era stato progettato dall'alto verso il basso cioè dice io devo andare sulla luna mi serve un razzo fatto così questi sono i pezzi io lo voglio così tu dittami devi fare questo oggetto qua lo shuttle era vabbè allora quali sono le ditte a cui dobbiamo dare soldi boeing questo è lock it martin e questo qua sacro santo non è che sto criticando benissimo dice senti noi per questi soldi ci abbiamo questo che va bene no e beh fatelo andare bene perché noi questo ci abbiamo quindi era più dettato da quello che avevano a disposizione le ditte rispetto a qua con tutte le modifiche lo sviluppo quello che vuoi però essenzialmente non potevano ricominciare tutto da capo e quindi essenzialmente era un po' un compromesso tra il tipo di sistemi di lanciatori e così via la cosa comico il drammatico quello che vuoi che poi anche i russi svilupparono il loro buran fece un solo volo senza equipaggio nell'88 con il motore anche al rientro adesso il programma in stasi ma essenzialmente abbandonato il progetto del buran è ancora più spassoso se vuoi perché appunto questo qui è questo è il questo l'ho fatta io tra l'altro di foto quando stavano queste non nuvolava era un modello di terra per addestrare l'equipaggio a appunto a lavorare e soprattutto a fare refueling della navetta e non so se tra l'altro hanno buttato tutte le piastrelle termiche non so se te l'ho fatta vedere le piastrelle termiche che stanno nel laboratorio sì allora te le devo far vedere perché sono uno spettacolo sono come quelle sono CO2 cioè ossio di silicio sono leggerissime essenzialmente quando questo l'hanno l'hanno portato al museo che non so se l'ho messo qua aspetta ti faccio del museo prima questo l'hanno preso dopo qualche anno eccolo qua prima stava vicino a gagarinsky start questa pure mia di foto quindi c'era il buran abbandonato alla e vedi qui la questo credo fosse quando lanciamo pamela quindi questa era la sajuts il razzo col col risurso forse la progress non mi ricordo comunque qui era era vicino a gagarinsky start infatti vedi anche le torri per illuminare la cosa a piedi ci metti forse 20 minuti mezz'ora e poi l'hanno portata al museo questa è la qualità ho fatto vedere con la vostra e l'hanno risistemato dopo di che quello che hanno fatto che essenzialmente hanno preso l'hanno l'hanno restaurato però tutte le piastrelle rovinate vandalizzate l'hanno presa l'hanno buttate qua dietro quindi nel 2005 2006 che me l'hanno andato a fare una passeggiata proibita trovo appunto questo cumulo di roba e con le piastrelle e ovviamente me le sono riportate tutte a casa dopo di che torniamo a buran e il punto essenziale è che i lussi quando gli americani cominciarono a sviluppare st'affare russi hanno detto sì ma a che serve sta cosa non serve assolutamente a niente perché appunto non ha senso avere un lanciatore così potente per mandare questo affare in cui tu c'hai il cargo con l'equipaggio cioè il punto essenziale è sempre il solito non lanci cargo con equipaggio il 615 era un po' un'eccezione perché volevi andare direttamente sulla luna ma poi avresti fatto meglio a farlo con due lanciatori ma poi fu abbandonato come idea però per la stazione spaziale per qualunque altra cosa tu dici io c'ho il proton lancio col proton o chi per lui dopo di che le una delle alcune d'avevo accennato forse una lezione precedente la kgb o comunque le information services russi disse no ma una delle ipotesi che questi stiano sviluppando questo anche come arma tattica o di guerra perché appunto l'idea che tu potresti mettere delle armi nucleari all'interno del della cargo bay del dello shuttle e quindi se tu la lanci quando stai sorvolando mosca effettivamente non hai 90 minuti anzi 45 minuti di warning di allerta dal lancio dei missi intercontinentali ce n'hai se no 10 e quindi potresti colpire mosca che è un'idiozia perché comunque si colpisci mosca ma poi quegli altri ti lanciano di tutto addosso quindi non aveva molto senso comunque sia essenzialmente mentendo si misera a sviluppare sto buran e dopo di che alcuni economisti dicono che costò costò 10 miliardi di rubri non so dove sta il numero comunque 10 miliardi rubri che però non sono riuscito a convertire in soldi occidentali però resta il fatto che contribui molto a danni dare il colpo di grazia all'economia sovietica dell'epoca poi quanto effettivamente è dibattuto ma poi francamente non è anche rilevante però c'erano proprio città io ho visto abbagano città intere di gente che lavorava al buran poi abbandonate quando il programma era stato appunto abbandonato vabbè qui c'è l'evoluzione ma essenzialmente l'idea questo qui è più ispirata allo shuttle nel senso che tu c'hai gli zenit ti ricordi che sono quelli comunque abbiamo lanciato nina che sono quegli ucraini intorno all'external tank ma i motori stanno perché ovviamente poi quelli c'avevano ovviamente le spie prendevano tutto ma poi il programma era anche meno segreto quella americana dopo di che però si è evoluta subito con l'idea che tu i ranzi li metti qua e qui non ci mette appunto solo un razzetto per l'asselto per il rientro e così via e infatti poi si è evoluta con una configurazione simmetrica a quattro booster di zenith il lanciatore centrale che appunto tutto questo corpo è energia e poi il buran vero e proprio questo appunto è quello che ti dicevo prima che è il booster di energia c'è quello messo ai lati ce ne sono quattro altro non è che il primo stadio di zenith con un minimo di accoppiatore del meccanico ma insomma non c'è nulla perché anche qua non si buttava niente poi perché il problema era che tra l'altro i russi non hanno mai avuto grosse competenze di di lanciatori stato solido cioè loro preferiscono sempre quelli lì o liquido appunto che rosene ossigeno idrogeno ma insomma con stato solido no quindi hanno dovuto metterci questi che sono potentissimi è infatti il problema il vantaggio di erano questi sono aspetti prima vediamo i vari buran ma in realtà ne fu costruito e completato uno solo buran picca che era il numero due che mod di questi non è che ti sono eccolo qua questo qui era il 2 era quasi completato ma poi non fu completato e gli altri sono in vari stati di abbandono due forse c'è la foto due stanno ancora dentro l'edificio abbandono uno sta a mosca è diventato un ristorante un altro è quello lì insomma un po un altro stand finora in arabia saudita ci sono delle storie pazzesche questi perché poi negli anni 90 veramente è successo di tutto questa era l'idea dello shuttle russo essenzialmente si è simile a quello americano però è anche vero che spionaggio a parte poi non è che c'è un altro modo per fare una cosa del genere cioè se tu mi dici mi senti devi fare una cosa che ritorna a terra che porta l'equipaggio che porta del cargo vabbè alla fine ti serve un aereo cioè non non c'è molto che ti può inventare quindi alla fine il design è molto molto simile questa è l'infrastruttura bella dalla frame ma essenzialmente dice poco ecco questi sono i motori alla fine non so se qui si vedono sono questi qua che sono i motori appunto per farlo rientrare questo è il disegno di tutte le piastrelle termiche appunto ma lo stesso è per lo shuttle non l'ho messo per non allungare troppo ma lì anche la ogni volta che volavamo queste piastrelle termiche si staccavano ogni volta che si staccavano dove riattaccava ognuno era diversa dalle altre una volta se ne sono staccare tante però era un volo militare non potevano controllare che era successo comunque non può comunicare con la terra perché era un volo militare quindi segreto quindi tutta una serie di deliri senza fine per cui e questo era l'assemblaggio vedi appunto hai i due booster iniziali poi metti il contenitore principale con i motori principali gli altri due e poi lo fai sedere e questo è l'edificio accanto a dove assemblano le saiozzo che poi è quello che purtroppo è crollato poi te lo faccio vedere eccolo qua 20 miliardi di rubli poi bisognerà capire se ho tempo cerco di capire meglio quant'è fece questo un volo solo atterrò e vabbè appunto se li confronti di nuovo non ci sono grossi differenze nel senso che si lo shuttle ha dunque un po di pelo di meno vedi 25 tonnellate rispetto alle 30 che avrebbe potuto portare buran ci sono mezzo metro ma insomma sono cose completamente trascurabili l'unica vera differenza appunto è che vedi ecco qua la forte i motori laterali che sono questi qui che sono questi qui dello shuttle sono hanno meno potenza di quelli del buran un terzo grosso modo però anche lì non è che sia una cosa essenziale loro partirono prima nel 72 e russi nel 76 ma essenzialmente non non ci sono grosse grosse differenze qui c'è una quantità di informazioni sterminata su astronautics se sei interessata chi è interessato e anche questo veniva fatto volare perché poi alla fine logistica è quella cioè è interessante vedere le differenze ma poi alla fine le soluzioni sono le stesse con un antonov 225 se non ricordo male che fu sviluppata apposta per portare questo qui dopo di che l'antonov eccolo qua l'antonov fu ritirato quando buran fu ritirata però poi fu ripreso e adesso viene utilizzato perché è l'aereo con la più grande capacità di carico esistente eccolo quasi il 225 nell'88 e poi fu messo mothballet e poi fu recuperato e poi c'è tutti i record di singolo oggetto portato in aereo più pesante 189 190 tonnellate airlifted total payload per questo wikipedia è perfetta di 253 tonnellate di cargo e un altro cargo appunto commerciale 250 quindi praticamente è un volo commerciale tutto lo affitti e fai quello quello che vuoi è un oggetto veramente impressionante e questo sempre da wikipedia che è perfetta per queste cose grafico che compara l'airframe dei vari aerei e quindi hai questo qui la spruce gus che la più grande sai chi è questa questa è quella di davieto di leonardo di caprio ti ricordo non so se hai visto il film che lui aveva preso i soldi iux aveva preso i soldi dai militari come tutti di nuovo nella seconda guerra mondiale per sviluppare una serie di aerei tra cui questo qui dove essere l'aereo da cargo più potente possibile più grande possibile per trasportare enormi quantità dopodiché questo qui era in legno era balsa legno con motori no ma insomma tutta la struttura nel legno dopodiché se ti vedi il film la sostanza è che poi siccome non aveva mai volato non non era cioè non rispondeva ai requisiti del contratto e quindi rischia di pagare un sacco di 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 penale e quindi fece quest'unico volo a pochi metri sopra decine di metri non mi ricordo quanto ma essenzialmente però rimane l'oggetto con l'air wingspan più grande possibile poi c'è appunto c'è il miria che l'anton of che è questo qui che arriva diciamo quello più grande perché questo non entrò mai in commercio eccetera eccetera anche come lunghezza però anche qua non è che c'è tutta questa differenza poi c'è il 747 che è che è questo qui il più piccolo e poi c'è il 380 che in qualche maniera intermedia il 380 pure impressionante il passeggeri no quello con lo chiamano il beluga perché sembra appunto un beluga con due piani di passeggeri anche lì mentre poi il 747 della regina dei cieli divenne estremamente commercialmente positivo il 380 nasceva dall'idea di portare più gente possibile ma in realtà adesso credo non li facciano più credo che l'ultimo sia stato consegnato qualche mese fa e fu abbandonato perché troppo costoso però è il 380 se ti capita di vederlo è impressionante vabbè questo per dire che poi comunque alla fine poi l'aeronautica e quello è dopo di che il vantaggio però essenziale che poi purtroppo l'economia e la cosa è andata così ma il vantaggio essenziale di energia rispetto allo shuttle perché mentre tutto il sts lo shuttle transport system cioè i combustibili razzi a combustibile solido e quella combustibile liquido poteva solo lanciare lo shuttle cioè non è che ci può attaccare un'altra cosa non fu mai studiato e comunque invece questo poteva portare anche altri carichi infatti vedi qui c'è energia m che è più piccolo con soli due booster laterali perché essenzialmente un oggetto del genere ti serve per andare su marte o sulla luna e quindi non c'è nessuno ci vuole andare e quindi non avevi commercialmente non c'era alcun senso quindi credo abbiano fatto un volo di questo ma poi fu tutto ritirato perché era troppo costoso rispetto infatti stanno sviluppando gli angara e questi sono appunto i quattro zenith vabbè questo è il volo dello shuttle ti ho fatto vedere e appunto veniva spostato con due locomotive un po come gli vecchi gli n1 per la luna insomma un oggetto impressionante a ecco la cosa che è interessante qua questi tunnel qui sono gli ci sono anche sullo shuttle sono gli scivoli di fuga per l'equipaggio perché appunto a differenza delle tour di torri di espulsione del saturno 5 delle sajuts di qualunque cosa che c'è un equipaggio in cui essenzialmente tu stai in cima stai sulla capsule e ti porto via qua che te vuoi portare via e quindi quello che succede che se per caso c'è un incendio sul launchpad devi veramente correre scivolare via per quando alla fine del bunker prima che salta tutto per anni che fa in tempo io qualche dubbio ce l'avrei però insomma almeno l'idea era questa ci sarà un tempo minimo che devi rispettare ma questa è una struttura veramente impressionante ma questa è la stessa foto di prima in alta risoluzione ma non c'è molto da aggiungere questo è proprio poco prima del lancio questi sono due uran abbandonati anche qui fece un po di scalpore perché degli americani si infiltrano in questi edifici e feceva le foto quando andammo a baguolo il 19 ci raccontarono che insomma questi non erano molto contenti che perché appunto comunque la zona militare insomma se l'avessero presi avrebbero fatto una infatti che non possono più entrare in russa e così via però le foto sono spettacolari il profilo di rientro anche qua non è che aggiunge molto questa sinistra è buran no sinistra lo shuttle destra è buran vabbè anche qua la termodinamica è quella quindi alla fine ti ritrovi con 1200 gradi 700 1200 gradi 800 1500 oltre 1700 i numeri sono gli stessi la scala diversa va a capire perché però non c'è molto da dire c'è una differenza comunque anche sopra veri se soggetta a 700 gradi celsius ea 300 nella 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 cargo bay cioè del nel portelloni che chiudono la cargo bay ecco quello che avevano fatto siccome appunto si potevano lanciare altri altri cargo aveva lanciato polius polius è veramente una stazione da battaglia proprio tipo la morte nera nel senso che era una stazione militare con le armi in violazione di tutta una serie di appunto di trattati perché le armi non le vuole portare le uniche armi che stavano nello spazio per un po di tempo erano le pistole dentro le sajuts perché nell'ipotesi che caschi nella steppa fuori il profilo di rientro e ti potresti dover difendere dai lupi ma è vero dai lupi della steppa e quindi erano armati per quella adesso non è più così perché essenzialmente è abbastanza noto come rientrare a terra e quindi le hanno tolte però le uniche armi nello spazio erano queste però essenzialmente se ti va a leggere quelle le specifiche che però non tornano parla di un megawatt laser che è un numero veramente senza fine poi c'avevano i cannoni ray con ls e così via sviluppato in piena guerra fredda fu lanciato nell'87 con un volo perfetto impeccabile però il problema è questo essenzialmente era il modulo che doveva essere il core il modulo centrale di quella che doveva essere la mir 2 perché nel frattempo ancora la mir stava in orbita e poi lo vedremo perché c'erano sempre state le mir e le almaz di cui non si è saputo niente fino a 10 15 anni fa che erano le stazioni militari ed erano due programmi paralleli delle almaz proprio non si sapeva niente scusa prima le sajuts le saliut e le almaz poi hanno ritirato due dalla saliut si è passati alla mir che poi appunto è lanciata nel 88 andare avanti fino al 2000 85 scusa fino al 2000 e andare avanti a lunghissimo e poi c'era mir e stazione spaziale internazionale ma nel frattempo hanno sviluppato questa essenzialmente militare il vantaggio svantaggio è che il volo andò perfettamente un giroscopio era stato montato al contrario quindi questo oggetto qua invece di fare una rotazione di 180 gradi ne ha fatta una di 300 scusa di di 180 gradi l'ha fatta di 360 quindi poi ha acceso l'ultimo stadio però invece di innalzare l'orbita è cascato secco nell'atmosfera quindi poteva funzionare tutto perfettamente ma è tornato giù però essendo appunto in tempo di perestroica eccetera eccetera sempre se leggi poi va a capire se pare che fu la gente fu abbastanza contenta a livello di partito gorbachev e così via perché così si erano torti un problema appunto perché così non dovevano avere più questo oggetto che appunto violava tutti i trattati spaziali militari e così via però resta il fatto che questo oggetto qui era cioè energia come lanciatore era in grado di lanciare anche altri oggetti quindi dal punto di vista ingegneristico se ci fosse stata una di una necessità economica o militare o comunque o commerciale o di qualche genere potrebbe essere riciclata questo qui tra l'altro ancora in piedi che la struttura per per asse tu porti il treno poi lo metti in verticale poi ci lavora intorno alla rampa di lancio ecco qua questo è polius però anche questo non è che mi aggiunge molto questi sono i motori famosi che appunto no questi motori di energia questi motori di polius che appunto furono accesi nel verso sbagliato e appunto energia di per sé lui pesava 2400 tonnellate poteva però portare in orbita bassa 100 tonnellate ovviamente poi se le 100 tonnellate sono includono il buran il lato cargo capacità di cargo e di meno questo non fu mai fatto geostationary orbit 20 tonnellate comunque tutto rispetto e poi la versione più figa era questa con otto booster che non è solo disegnata che poteva portare 100 tonnellate su marte quindi tu immagina con un oggetto del genere mandi sul 100 tonnellate su marte nell'ottanta c'è già la città ed ecco qui questo con i vari ma questo solo sulla carta sono rimasti è perché appunto hai lo zenith di cui ricicli il primo stadio e lo porti qua hai energia la versione più potente di energia appunto con otto booster è buran è scusa vulcan in cui appunto hai questa parte qui come come essenzialmente sopra di questo hai la tua cargo capacità di vedi c'è anche la torretta di di espulsione se ci vuoi mandare il punto equipaggio su marte oltre energia m la versione ridotta con solo i due booster laterali e la parte centrale però insomma è interessante come poi l'avevano pensata bene poi purtroppo appunto la storia dell'economia fatto sì che poi fu tutto buttato ma l'oggetto era un oggetto di tutto di tutto rispetto ma questa te l'ho già fatta vedere appunto adesso abbagano lo stesso c'è solo questo modello del buran e perché l'altro poi andò distrutto no livio l'ha visto lì andò nel 2000 e due o tre prima dell'incidente e lo vide buran nell'angar accanto poi cadde il soffitto o per la nevo perché stava facendo dei lavori insomma morirono anche due tre persone cadde il soffitto e fu andò tutto distrutto e qua forse si capisce un po questi sono vedi i due booster laterali dello zenith cioè questo qui è la parte centrale del lanciatore e poi pezzi del buran stanno pure da qualche parte questo era come era prima vedi questo è l'altro russia space web è l'altro sito che se uno è interessato alla parte russa l'avevo già citato assolutamente sicilmente è crollato il tetto di questo hangar qua e quindi poi hanno pulito un po ma insomma i pezzi sono rimasti il grosso hanno tolto ma non c'è che deve fare direi che allora per con questo chiudiamo perché ci sarebbe da fare space x e gli altri abbiamo già fatto un'ora ci mettiamo troppo a fare dovremmo interrompere direi ci fermiamo qua per oggi e poi facciamo giovedì giovedì alle due e mezzo come al solito ok va bene allora terminiamo qua e poi noi ci facciamo gli elfi